Gli uccelli si erano ritirati dai rami. L'aria si era fatta più fredda. Dai boschi arrivavano folate di umidità e foglie al macero nella terra. Mi fermai. Ero stato al telefono con Patrizia, quindi sapevo. Ammetto di essere uscito quella sera non tanto per la consueta passeggiata, quanto spinto da una preoccupazione a cui in quel momento non avrei saputo dare un nome. Il temore che la straniera, risalendo strada al forche in condizioni pietose, potesse farsi del male. Osservai il suo corpo scosso dai conati. Senza la copertura del giaccone da neve, era pallido e secco. Doveva pesare non più di 45 chili. Le ossa sporgevano dai vestiti. Mi stupì che fosse riuscita a risalire fino a sassaia ubriaca. Aspettai che si rimettesse in piedi, che affondasse la faccia nell'acqua gelida del lavatoio e riaprisse gli occhi. Ma meglio. Mi mise a fuoco, senza spaventarsi questa volta. Si passò una mano sulla fronte a noi prima di lasciarsi cadere sulla panca. L'acqua gorgogliava. Le ocche del basilio starnazzavano in lontananza. Aveva il rossetto sbaffato. Ho preso una mina assurda. Credo che a quest'ora lo sappia tutta la valle. Lei sorrisse scuotendo la testa. Sono proprio un disastro. Con gli occhi di nuovo chiusi, le ciocche di capelli bagnati che le gocciolavano sulle spalle e la manciata di lentiggini da ragazzina sparse sul naso e sui zigomi, assomigliava a una stanca pippi calzelunghe. Qui si al sicuro, dessi. Ci sono venuta apposta. Riaprì gli occhi, che erano verde bosco, verde mela, verde acerbo, screziati di giallo, bellissimi, ma assolutamente privi di luce, come due stelle morte. Mi turbarono. E quando mi resi conto che ci stavamo guardando e addirittura parlando, provai un imbarazzo così forte, come in quei sogni in cui ti ritrovi nudo in una piazza affollata. Li rivolsi un cenno sbrigativo con il mento, trascinare il mio ingombrante metro e novanta in una direzione a caso. Non che ce ne fossero molte, ma io volevo solo inabbissarmi in un bosco. Aspetta! Mi sentì chiamare. Mi venne incontro a piccoli passi, mantenendo tra noi una distanza di cui le fui grato. Tu abiti qui, giusto? Le feci sì con la testa. Stringeva la tracolla della borsa tra le mani e sembrava molto combattuta. So che potrebbe suonarti strano quello che sto per chiederti, che io potrei apparirti strana oltre che sbronza, ma ti assicuro che sono lucida, veramente, e che non riesco a dormire. Lasciò cadere la borsa a terra e cominciò a gesticolare. Non sono abituata a questo silenzio, mi trivella le orecchie. Non c'è una tv, una radio, non c'è un cazzo. E io ho bisogno di sentire delle voci, delle persone che parlano. Perché è sempre stato così. Non ho mai dormito da sola. Pensai che fosse molto teatrale. Presso verrà un signore a portarmi la tv e sarà tutto risolto. Ma intanto... Non osai spiegarle che nessuna casa di sassaia aveva un televisore né l'avrebbe avuto. Ma intanto te lo chiedo per favore e ti prego di non pensare male. Verresti a casa mia stasera a parlare finché non mi addormento. Ero rimasto immobile, in apnea ad ascoltarla per tutto il tempo in cui aveva accatastato frasi improbabili su frasi ancora più improbabili. Ma ora sussultai. Non ci conosciamo nemmeno. Lo so, lo so. Sembrava recitare alla perfezione e allo stesso tempo, disperatamente sincera. Ti garantisco che non sono pazza, sono esausta. Posso pagarti per il disturbo o restituirti il favore in qualche altro modo. Non ti porterò via molto tempo. Io mi metto a letto, tu mi parli. Di capri, di astrologia, di quello che vuoi. Poi appena vedi che dormo e secondo me stasera crollo subito. Te ne vai. Non riuscivo a crederci. Mi stava chiedendo di andare da lei dopo cena, nella sua camera. Non sapevo il suo nome. Lei non sapeva il mio. Avrei potuto essere un pervertito, un malintenzionato, uno che violenta le donne anziché uno che pagava la gisella una volta al mese all'hotel le piane in mezzo alle risaie. Scusami, cancellò con una mano nell'aria il tema che aveva faticosamente raffazzonato. Dimentica tutto. Raccolse la borsa da terra, russa in volto. Era così delusa e imbarazzata. E io conoscevo talmente bene quella sensazione, che fece una cosa che non mi accadeva più con gli altri da un'infinità di tempo. Immedesimarmi. Va bene. Le risposi contro la mia volontà. Dopo cena passo.